Ehm, attenzione attenzione, Pachidi è ormai in arrivo. Dani, fagli un po' di foto con questa, con quello lì, che è bellissimo. Roby, allarga le orecchie, si sta arrabbiando. Oh, santa pace. Che bello strusciarsi sugli alberi. Eh? Cosa fai? Ti gratti? Roby, vai! Ehm, penso di sì. Adesso aspetta che arriva Happy Family. Oh, mi è venuto... Ho un po' il cuore che batte veloce. Speriamo non mi voli la telecamera, perché... Niente, è buono. Basta, basta. Ok. Ciao. Ciao! Ciao!